Sono arrivato ad ottimizzare le campagne dei miei clienti ma anche quelle mie personali riuscendo ad aumentare le vendite dal 30 all'87%. Ciao, sono Francesco Termite e aiuto consulenti marketing e web agency a creare strategie di marketing basate su dati scientifici e a risparmiare oltre il 450% sui costi pubblicitari. Ho deciso di fare questo lavoro perché essendo stato un project manager per un'agenzia SEO so bene cosa significa essere sempre sotto la spada di Damocle del cliente quindi il mio obiettivo è quello di aiutare gli addetti ai lavori a provare le proprie strategie e a basarle su dati che sono basati su aspetti matematici. La maggior parte delle web agency infatti basa le proprie scelte di marketing su magari idee creative mentre il mio obiettivo è proprio quello di spostare l'attenzione sulla fase che realmente conta che è quella strategica. Ricordo molto bene la frustrazione che si prova nel lavorare per clienti che non comprendono il tuo vero valore o che credono di conoscere il loro mercato. Ricordo molto bene la frustrazione di quando mi trovavo a perdere ore e ore per spiegare un concetto ai miei clienti salvo poi non ricevere la loro approvazione anche se questo poteva comunque portare dei benefici al cliente stesso. Per questo il cliente non era disposto a investire i soldi che gli chiedevo perché appunto preferiva rivolgersi ad una web agency che offriva semplicemente prezzi più bassi. Quindi diventava sempre più difficile per me come per tutti gli addetti ai lavori creare campagne che portassero iscritti e vendite per i nostri clienti e che pretendevano sempre di più e mettevano in discussione ogni mia proposta. L'approccio metodico di Giacomo mi ha permesso di creare campagne davvero efficaci e di creare un messaggio programmatico basato sui bisogni reali dell'audience a cui mi rivolgo. E la prima cosa che ho fatto dopo aver seguito i consigli di Giacomo è stato proprio quello di analizzare e segmentare il mercato per estravolare i bisogni reali e andare a agire appunto su problemi, frustrazioni, paure, sogni e desideri. E successivamente sono arrivato ad ottimizzare le campagne dei miei clienti ma anche quelle mie personali riuscendo ad aumentare le vendite dal 30% all'87%. In altre parole ho più che raddoppiato il fatturato dei miei clienti. Grazie al marketing programmatico a Giacomo e dal suo team sono riuscito anche a pubblicare un libro che rappresenta l'ingresso del mio sistema di acquisizione clienti e che permette di generare clienti al 56%. In altre parole, su 100 persone che arrivano sulla mia pagina carrello, 56% acquistano il libro e la metà di questi, il 50%, acquista anche una offerta, una bump offer, un'offerta immediatamente acquistabile solo in quel momento. Grazie al marketing programmatico quindi sono riuscito a creare delle strategie per me e per i miei clienti a prova di bomba. Ecco perché il mio prossimo passo è quello di divulgare il più possibile questo metodo scientifico per analizzare e segmentare il mercato ed aiutare web agency e consulenti marketing a differenziarsi e a soddisfare appunto i propri clienti. Adesso faccio tutto questo mentre do alle persone a me care tutte le attenzioni che meritano, oltre a ricevere costantemente email da partner e da clienti che mi ringraziano per l'aiuto che gli ho dato. E questo è quello che mi fa svegliare ogni giorno e che mi fa andare avanti nel mio lavoro quotidiano.